Asma e Cristiano sono una delle coppie nate nel parterre di Uomini e Donne, i due stanno ora affrontano una crisi La scorsa stagione di Uomini e Donne si è conclusa con un bilancio positivo di coppie che si sono formate tanto nel trono classico quanto in quello over Per quanto riguarda il parterre degli over, una delle coppie più amate è stata quella composta dalla dama Asma Fers e dal cavaliere Cristiano Lo Zupone Negli ultimi mesi i due sono apparsi complici, felici e innamorati e soprattutto pronti a passi importanti e a fare le cose sul serio Hanno parlato di matrimonio o di allargare la famiglia.Eppure ora sembra che qualcosa sia cambiato e che per Asma e Cristiano non sia tutto rose e fiori Punto la crisi fra Asma e Cristiano di Uomini e Donne, ognuno per conto suo Gli esperti di gossip a Medeo Vinza e Deia Nera Marzano, in attesa di scoprire i prossimi protagonisti di Uomini e Donne, hanno parlato della coppia formata da Asma e Cristiano Sembra che i due stiano affrontando un momento difficile e nessuno se lo sarebbe mai aspettato Si erano addirittura tatuati la data 23 aprile, il giorno in cui si sono scambiati il primo bacio Gli esperti di gossip hanno ricevuto delle segnalazioni da parte di un utente in cui è stato evidenziato come siano sparite le foto di coppie dai social di entrambi Proprio Verza e Marzano hanno trascorso del tempo in spiaggia con la coppia e hanno raccontato la loro impressione Deia Nera Marzano ha detto, ci sono stai anche in vacanza dei giorni in cui sono stati bene ed altri che per del tempo non si parlavano molto Ci sono stati degli screzzi, più che altro caratteriali. Sicuramente si vedranno per chi Arirà ma per ora stanno ognuno per conto suo Speriamo il meglio, sono una bella coppia. Anche Verza ha raccontato cosa ha notato dicendo, se proprio lo volete sapere l'ultimo giorno con noi sulla spiaggia non si sono proprio parlati Detto ciò, spero che chiariscano. Non sono persone che lavorano su social, che hanno la necessità di inventare Punto per molti due starebbero cercando di tornare single per poter rientrare in trasmissione e nel caso, non sarebbero né i primi né gli ultimi dato che molti altri l'hanno fatto prima di loro Cristiano, comunque, aveva dichiarato qualche tempo fa che, anche se avesse avuto la possibilità, non sarebbe tornato a uomini e donne